Numero 23 Paola ci porta da Once Upon a Time REGINA C'era una volta una giovane bella come nessun'altra che si era sposata con un gentile re ma lei non lo amava e un giorno decise di fuggire con il suo vero amore ma per colpa della figlia del re fu scoperta e il suo amore fu ucciso lei è del cuore di lui diventare il cedere gentile donna che una volta più oggi è diventata la più crudele strega la più potente regina presto, molto presto avrà tra le sue amore il cuore di Bianca nella figlia del difunto re e distruggerà sia lei del suo libro di più per Paola che è recitato in italiano pur venendo da Siviglia e ha interpretato regina da Once Upon a Time molti grazie è l'unica parola adesso in spagnolo che sai in spagnolo? Los spagnolos si fa vedere potuto caglioni e poliglotta è un poligono è un poligono grazie regina è uguale impressionante sei molto simile hai dovuto parlare in inglese no io non so non parlare non so si tranquillo perché parla italiano parla italiano perfetto è tambaleo che sei grazie